punti ecco esercizio di Martina partiamo si parte direttamente dallo stagio alto con una piantata a cacio scarpiato e un pack collegato a un mannaggia a uno salder con un giro che però purtroppo la vista cadere poi riparte è ripartita con uno chapeau collegato a un grande salto Tarzan molto pulita molto bene questa piantata con un giro brava parte sopra anche per lei un cambio in cubitale invece di fare un giro lei termina solo col mezzo giro e un'uscita in Zucara molto ben controllato attrezzo e ecco la trave di Martina Maggio che invece ci eravamo persi quindi eccoci qua flick salto salto bravissima ringraziamo la regia per non lasciarci mai orfani davanti a noi le le brixiane che vanno verso eh cosa manca? No no stavamo vedendo la trave di Martina. Ah ok scusami la trave di Martina che avevamo perso bravissima la regia che ci offre questo replay. Esatto. È ribaltata senza mani. La giamba e cambio d'anello l'ha eseguito molto bene perfetto il costale brava Martina la trave ha sempre avuto anche lei una bellissima sensibilità fin da bambina e doppio giro in accosciata bravissima parte a terra e eh uscita in un avvitamento e mezzo semplice avvitamento di valore civa Benizio brava sì una parolina per la Ramori invece che la cosa che a me fa tanto piacere vedere che dopo una delusione come quella della non partecipazione un'olimpiadi che vi assicuro che è una delusione per un atleta di quel livello grandissima lei invece si è rimboccata le maniche e ha ricominciato da capo quindi in bocca al lupo per tutto e godiamoci l'esercizio di Martina a corpo libero parte con un giro due giri in accosciata si è vicina all'angolo per la prima diagonale doppio teso in prima bravissima Martina bella da vedere espressiva e anche molto potente teso avanti smezzato una diagonale che abbiamo visto anche fare a Vanessa Vani l'ha fatta col doppio raccolto in ultima diagonale mentre Martina col doppio carpio in seconda comunque meno male che l'esercizio di Vanessa era contenuto nei contenuti aveva detto Enrico ma direi che uno ciucara in terza diagonale non è niente male tempo tempo flick doppio raccolto brava Marti brava un giambe cambio mezzo giro doppio giro impugnato eseguito in maniera impeccabile ragazzi bravissimi grazie a tutti